L'Aerogarden di Priamo Casula La discoteca è composta da due sale da ballo di circa 1300 metri quadri In via Trieste dal 1963 lavora con più di 20 dipendenti L'affluenza è di circa 120.000 clienti all'anno Il Voodstock in via Sicilia dal 1975 ha circa 17 dipendenti E' un'affluenza media di 80.000 clienti all'anno All'Aerogarden di Priamo VAMOS